Ma cosa vuol dire romantico? Romantico significa vittima, che anche i romantici si ispirano agli antichi, ma non quelli antichi della Grecia e dell'impero romano, anzi gli antichi del Medioevo, come andiamo a vedere insieme. Il romanticismo è un movimento culturale e intellettuale, nasce per prima cosa nella Germania tra la fine del Setticento e la prima metà dell'Ottocento, per diffondersi in poi nella Francia e nell'Inghilterra. In Italia nel frattempo è però in voga il neoclassicismo e non si sa nulla del movimento romantico che inizia tuttavia ad affermarsi nel panorama letterario dell'Italia del tempo soltanto a partire dal 1816. Il romanticismo inizia in Italia con la visione di Giovanni è che la letteratura deve esperimere le esigenze dell'uomo e della nazione, soprattutto quelle della libertà e dell'indipendenza, cioè del tutto lontano dall'esalto dell'antichità e del tempo passato. La letteratura deve anche dipendere dalla sensibilità, dai sensi, dai sentimenti, invece del ragionalismo rigido dei lumi. A questo punto però si vede nascere le politiche su una tendenza straniera che viene da nazioni non sono italiane, anzi tedesche, francesi ed inglesi. Così pensano i classicisti del romanticismo. Quel movimento che invita al patriottismo, al senso nazionalista, non gli pare di effetto in grado di esprimere l'uomo né la nazione italiani. L'unico però che è capace di farlo è la tradizione classica e l'imitazione dei antichi, ovvero degli antichissimi, poiché anche i romantici si ispirano alle antiche, ma non quelli antichi della Grecia e dell'impero romano, anzi gli antichi del Medioevo. Romantico significa vittima. L'uomo romantico si sente sempre una vittima, vittima della vita, vittima di Tio anche, così per parlare. Come ha detto Giacomo Liopardi, il cieco destino, fatto ingiusto, matrini a natura, cioè che non è buona madre, tutto ciò per esprimere il vittimismo romantico, ma anche il pessimismo. Infatti il sentimentalismo dei romantici è sempre pessimistico, dipende dalla non speranza, dalla disperazione assoluta. Queste sono le caratteristiche vere e proprie del pensiero romantico, che dà alla luce anche il cosiddetto ribellismo. In vero tutte le rivoluzioni, i moti resistenti del tempo, sono frutti del romanticismo, il senso patriottico, diciamo. La rivoluzione americana del 1784, circa, o 85, non ne ricordo bene, la rivoluzione francese del 1789. Anche i monti rivoluzionari in Italia contro l'Asburgo, ossia gli austriaci, e contro Napoleone e la propria dominazione francese. Romantici, allora, si ripillano contro ogni sorta di costrizione, sia materiale, sia spirituale. Non di meno, vediamo un tipo specifico della religiosità, in stili tanto romantico. L'uomo romantico che sente la fragilità umana, nei confronti della malvagità del mondo, delle offese della vita, questo uomo li bisogna anche sentire il bisogno di Dio stesso, e della provvidenza divina, che aiutano gli uomini limitati, aiutano queste creature deboli a confrontare il male del fato. Mi sembra ciò un'idea molto tipica dell'antimonio di Leonardo Chacha, se lo sapeste, in cui diceva la madre del protagonista, nelle pene Dio non c'entra, e il destino che ce le porta. A questa separazione tra Dio e il destino sono dati anche i romantici dalla loro sensualità pessimistica, soprattutto dopo il decadimento del pensiero materialistico, dei lumi, e dopo il fallimento degli ideali illuministici, quindi da solo non si può affrontare la vita. E così diceva Manzoni, senza Dio il mondo non è che una foresta di belve. Tutto ciò, diciamo, fa isperarsi i romantici al Medioevo. Perché il Medioevo, in particolare? Si ispirano al tempo dove c'erano i primi stati nazionali, dove c'era l'unità cristiana dell'intera Europa? Grazie mille per guardare, grazie mille per ascoltare il mio video. Non dimenticate il like, e se volete essere avvisati di un nuovo, iscrivetevi subito al canale e attivate le notifiche attraverso la campana qua giù.